ciao benvenuto al consueto aggiornamento ciclico per quanto riguarda il dax con ovviamente l'indicatore volt time e dire mercati solo long non c'è non c'è modo oggi ho fatto una giornata intera di vacanza mercati che non hanno neanche minimamente fatto un ritracciamento per poter entrare quindi ovviamente per me non esiste un'operatività del genere mercato deve ritracciare per poter entrare anche in trend e quindi nulla dax lo guardiamo totalmente in laterale perché è vero che ovviamente chi vede solo long si aveva fatto 600 punti in pochi giorni anche vero però in realtà questi 437 punti è in realtà il mega rettangolo di lateralità è un dax che totalmente privo di direzione certo che ne vediamo chiaramente dal punto di vista tecnico in questo caso quindi non sto parlando di trend line wide ma semplicemente quello che vedono tutti è evidente che abbia rotto questo canale ribassista con la giornata di oggi ufficialmente dal punto di vista tecnico il mercato è long da un punto di vista ciclico non ovviamente ignoriamo completamente queste cose qua che hanno una validità sempre solo dopo perché una trend line viene tracciata centomila volte prima di essere rotta idem per quanto riguarda un canale tanto per intenderci questo canale è stato rotto prima qui è stato rotto prima qua poi è stato previsto naturalmente quindi è stata questa la prima rottura poi c'è stata poi la seconda rottura che è stata questa qua poi c'è stata la terza rottura che è quella di adesso e allora adesso ci sarà chi chiaramente vede questo di canale quindi la vedete che tiene cioè l'analisi tecnica è questo l'analisi tecnica è sempre solo ed esclusivamente il giorno dopo mai la previsione è sempre solo il giorno dopo prima di procedere con il proseguo dell'analisi come sempre sigla del canale e saremo di nuovo insieme eccomi qua per chi non mi conosce io sono Paolo Pisino sono un trader dal 2007 e sono il fondatore del sito tradingpertutti.com che mi accompagna più o meno dal 2007 sono un analista ciclico mi occupo di trading da diversi anni la maggior parte dei miei anni di trader li ho passati a studiare l'analisi ciclica ti invito a unire canale telegram gratuito rimarrai aggiornato sia con la mia operatività riceverai ogni giorno i due link con le analisi multi day che quotidianamente e in maniera totalmente gratuita e vado a postare su youtube e quando ci sono dei setup li vado a postare anche sul canale gratuito telegram setup che vado a a postare quando ne ho almeno tre riservati chiaramente a chi è abbonato invece servizio di segnale allora uno di questi tre lo vado ad allegare anche a chi non è abbonato al mio servizio se stai cercando il servizio di segnali in tra dei sui futures sei nel posto giusto invio segnali su dax nasdaq smp down jones gold e petrolio operatività su h1 quindi molto tranquilla se non c'è da fare trading non si fa trading quindi non è servizio almeno una due o tre operazioni al giorno tutti i giorni no e settimana scorsa mi ha fatto due operazioni in questa settimana una sola operazione e due operazioni e non è detto che ci saranno altre operazioni da qua alla fine della settimana anzi direi che è molto improbabile che ciò possa avvenire considerati i dati di domani di questa sera domani e venerdì è l'ultimo giorno si sa che di venerdì quasi mai si riesce a operare i risultati li possiamo vedere insieme qui un punto di vista dei punti ok quindi punteggio portato a casa 44 punti in perdita sul dax ieri mi avrebbe stoppato in pieno chiuso con solo 40 punti di stop ripeto stoppato in pieno poi oggi sarebbe andato iper mega target quindi il long di ieri era perfetto non c'era nessun tipo di errore però il mercato ieri è stato veramente una porcata mercato totalmente immobile per quanto riguarda america sparata mattiniera del dax poi rimangiarsi tutto il rialzo per poi fare quello che avrebbe dovuto fare ieri stando alla mia nasi ossia spararsi 300 punti da ieri ad oggi nasdaq più 50 punti da un giorno 76 punti s&p 16 punti gold 98 punti ossia 9,8 dollar di movimento e il petrolio meno 45 punti ossia 50 centesimi di movimento sia lo stop sul dax che quello su il petrolio li ho chiusi con circa la metà di quello che era lo stop originale anzi il dax addirittura molto meno della metà invece il petrolio la metà il computo da un punto di vista invece economico è iper positivo il mese di gennaio 2338 euro come puoi vedere prima settimana anzi prima due settimane molto buone e poi all'inizio di questa settimana anzi questo era un venerdì con degli stop come puoi vedere le perde al di là di questo 25 50 che doveva essere un break even e il pannellino che utilizzo per gestire l'operatività non ho capito perché mi ha fatto andare a meno 7 comunque fa niente e gli stop come puoi vedere sono molto più piccoli dei profitti togli 12 e 2 che sono due break even come puoi vedere gli stop loss incidono veramente in maniera minimale per quanto riguarda i profitti vedi che le size non sono tutte uguali per quale motivo perché entro in percentuale che cosa vuol dire in percentuale che io rischio sempre lo 0,5 per cento per ogni operazione quindi che io abbia uno stop loss di 100 punti di 50 il costo è sempre quello quindi se non ha la più pallina idea di che cosa sia di cosa stia parlando non ti scrivere al mio servizio segnali perché se tu entri con una site sempre uguale se prendo 100 punti di stop ti costaranno il doppio di 50 punti di stop e poi dirai ecco non sei profittevole tutti i profitti li puoi vedere qua del 2021 ad oggi mese su mese con anche i mesi che si sono chiusi negativi pochissimi per fortuna non ho chiuso un anno negativo da quando lo storico 2021 non c'è mai stato un anno chiuso negativo anzi anni chiusi tutti quanti con un ottimo profitto anche il 2023 nonostante gli ultimi tre mesi di difficoltà se vuoi invece imparare a lavorare con il mio metodo indicatore Voltime avrai accesso all'indicatore che è in grado di prevedere letteralmente con ore, giorni e mesi di anticipo che cosa farà il mercato lo potrai utilizzare in intraday a partire dallo scalping fino invece se sei un cassettista in multiday e avrai accesso anche al canale telegram dove insieme si lavora dove anche altri colleghi postano le loro analisi e ovviamente ai video formativi ma torniamo al nostro DAX rimane ribassiste da un punto di vista ciclico proviamo ad aggiungere circa da 40 e da 20 giorni come possiamo vedere anch'essi sono ribassisti quindi il mercato è short da un punto di vista ciclico attenzione vado a sistemare queste tre anni circa 20 giorni è ovvio che sta totalmente ignorando al momento la fase di ribasso in realtà no perché come sappiamo spesso e volentieri le fasi ribassiste avvengono tutte in un colpo ciclicamente parlando e ricordiamoci che il minimo più importante è questo che vediamo che è previsto al momento per il 7 di febbraio 2024 quindi abbiamo ancora in realtà parecchio tempo prima che il mercato scenda tra l'altro aveva anche rotto le medie mobili cicliche ed era un se ricordate avevo detto se il mercato ritraccerà su questo livello sarà un buon poi una buona opportunità lo short sotto ai minimi della giornata del 17 in realtà il mercato è solo salito non ha più accennato la sua discesa andiamo velocemente a vedere su tradingview perché qua c'è questo scusate adesso non ho a sistemare andiamo a vedere su tradingview il DAX tanto America vedo che sta scendendo DAX che in... ma non è che lo so settimanale qui ah sono su 4 ore e... beh ovviamente livello di resistenza è quello dei massimi assoluti quindi non andiamo a posizionare qua ma in realtà abbiamo tutta questa zona che per me è la zona più importante perché qui abbiamo avuto tante aperture, chiusure, massimi, minimi, massimi come puoi vedere quindi questa è la zona secondo me che andrà tenuta in considerazione mi piacerebbe che questa sera il DAX chiudesse sopra a questo livello per poi eventualmente su H4 nella giornata di domani qualora ciclicamente l'intraday il mercato fosse short e se chiaramente il mercato andrà anche a posizionarsi sotto alle medie mobili e in intraday, alle medie mobili e cicliche stavo dicendo intraday in realtà siamo su 4 ore ecco che diventerebbe interessante un movimento del genere quindi rotturare il test e potremmo andare a cercare un ribasso anche se secondo me il primo ribasso logico ce l'avremmo qui quindi al momento abbiamo veramente 280 punti di non faccio niente a meno che appunto il mercato non scenda a questo punto deve scendere obbligatoriamente per poter darci un'idea il mercato poi deve risalire, deve riscendere allora potremmo andare solo qui a prendere uno short però se dovesse chiudermi sotto a questo livello vuol dire che il mercato potrebbe mantenere sostanzialmente la sua attuale condizione di lateralità e quindi perché no andare a cercare di raggiungere nuovamente quanto meno il livello di supporto ossia quello del 31 luglio 2023 quindi per me rimane ancora assolutamente ed esclusivamente ribassista al DAX tutte le operazioni long multiday non le prenderei assolutamente in considerazione in intraday è diverso anche se avendo una condizione ciclica di fondo ribassista in multiday anche in intraday quando ci sono i segnali e sono veramente rari è sicuramente più corretto andare a cercare dei ribassi anziché dei rialzi ricordo a tutti soprattutto per chi mi guarda per la prima volta che io tengo presente esclusivamente di ciò che sono le dinamiche cicliche non me ne frega nulla di quello che pensano fuori non me ne frega nulla di come va il mondo da un punto macroeconomico non me ne frega nulla se il mercato è long se il mercato tecnicamente sta spingendo al rialzo se io ho un segnale ribassista perché ciclicamente multiday il mercato è short io lo prendo non vado long solo perché tutti vanno long e perché qualche cretino dice il mercato salirà per sempre questo deve essere un concetto molto chiaro per com'è la mia operatività e del resto i risultati li potete vedere su il sito il costo dell'abbonamento è 49 euro al mese quindi un abbonamento assolutamente alla portata di tutti tenendo conto che lavoro con i futures e quindi chi normalmente tra da futures ha denaro da investire e 49 euro sono veramente una cifra ridicola con questo è tutto ti auguro una buona serata ciao 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 Grazie.